Ciao amici di Pensare Mac, oggi vi diamo una e per il momento anche l'unica proposta di Puro per proteggere iPad Pro, si chiama Z Slim e ora vi racconto un po' come va. La Puro Z Slim per iPad Pro è disponibile unicamente in colorazione nera quindi scelta obbligata ma in fin dei conti secondo me adatta ad un dispositivo così grande e comunque destinato principalmente al lavoro. Si tratta di una custodia a libro di tipo slim, ciò vuol dire che la copertura lavora proprio come la copertina di un libro o quaderno, la copertura è magnetica e quindi in grado di accendere e spegnere il display di iPad ma ha anche una discreta presa che le permette di rimanere chiusa durante il trasporto. Sul retro vi è un case in policarbonato rigido trasparente di colore grigio fumè, molto bello secondo me con una finitura leggermente ruvida e che lascia intravedere la scocca di iPad Pro e quindi anche la mela morsicata sul retro. L'inserimento è piuttosto agevole così come il disinserimento. Sul retro si nota poi questa grande fessura progettata per ospitare e tenere in posizione la copertura superiore. In questa maniera la custodia diventa uno stand con due posizioni possibili, una verticale adatta alla visione di filmati o contenuti multimediali e una orizzontale che può essere usata per scrivere con la tastiera a schermo o anche disegnare con la Apple Pencil. La protezione che offre la Puro Z Slim è piuttosto buona per una custodia di questo tipo, copre quasi integralmente la conice laterale lasciando libera unicamente una zona nei pressi del connettore lightning. Insomma se devo trovare un difetto beh l'unica cosa è forse che la copertura superiore della copertina trattiene un po' di ditate ma sono veramente dettagli e invece per concludere devo dire che in questo periodo ho utilizzato la Puro Z Slim volentieri, tutte quelle volte in cui non avevo bisogno della cover con tastiera che naturalmente è decisamente più pesante e ingombrante. La Z Slim infatti ha il pregio di contenere molto bene sia il peso che lo spessore di iPad Pro e nel complesso vi dirò è ben realizzata con materiali di buona qualità e finiture curate, insomma in linea con la qualità degli altri prodotti di Puro. Se vi interessa vi lascio i link insieme alle foto all'interno dell'articolo su Pensare Mac e fatemi sapere nei commenti che ne pensate o se avete provato altre custodie per iPad Pro. Io vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un mi piace, una condivisione o iscrivervi al canale se avete gradito il video. Un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo alla prossima sempre qui su PensareMac.it